Dottore, ho acquistato dei farmaci online, non ho risolto i miei problemi di salute e ho sprecato dei soldi. Acquistare farmaci online in internet è sempre un errore. Quando si ha bisogno di una terapia farmacologica, è bene rivolgersi al proprio medico curante e seguire la sua prescrizione. Io le consiglio di acquistare i farmaci nei punti vendita autorizzati.